Ben trovati a tutti ad un nuovo appuntamento con le interviste di Bioblue24. Oggi torniamo ad occuparci di Julian Assange. Lo facciamo con due giornaliste che vado a presentare. Berenice Galli, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ricordo che Berenice Galli potete seguirla su Pangea, che è presente sull'app di Davvero TV. Vi invito a scaricare l'app e poi a installarla sul vostro telefono. Fate browse e potete guardare tutti i video, tutti i contenuti anche di Pangea, completamente gratis e senza necessità di registrazione. Ovviamente poi se volete sostenere anche l'app Davvero TV potete farlo. E poi Germana Leoni, grazie per essere con noi. Grazie per avermi invitata. Ecco, perché ci siamo trovati qui oggi a parlare di Julian Assange? Perché è uscito il libro di Germana Leoni. Niente è come sembra. Eccolo qui, Julian Assange. Adesso Germana ti vorrei chiedere innanzitutto da dove nasce la necessità di scrivere un libro su Julian Assange? Beh, in un certo senso anche dalla rabbia, dalla sensazione di impotenza, di vedere come sono ridotte le democrazie occidentali, come un giornalista che ha tutti i diritti di esprimere le sue opinioni, ma qui non si tratta nemmeno di opinioni, in cui si tratta di diffondere fatti, venga tacitato in una maniera così brutale. Prima rinchiuso per sette anni in un'ambasciata a Equadorenia, a Londra, dopo di che, come se la cosa non fosse stata abbastanza, rinchiuso in un carcere di massima sicurezza di Bermash, l'importante era chiudeghi la bocca, perché Assange stava rivelando delle verità scomode. Attenzione, verità che nessuno ha mai contestato, nessuno ha mai potuto accusarlo di diffondere fake news, era verità, quest'uomo diffondeva la verità, evidentemente oggi le nostre, la democrazia e la verità non la vogliono. E quindi a questo punto io ho sentito il bisogno di parlare di Assange, ma non tanto di parlare di Assange, di veicolare quello che lui aveva voluto veicolare, cioè gli avevano chiuso la bocca, va bene, allora la voce gliela ridiamo noi. Ecco, se vuoi questo è stato l'impulso che mi ha fatto sedermi al computer e scrivere un libro su Assange. Sì, diciamo che tu e Berenice insieme a noi siamo i pochi ad occuparsi con una certa continuità di Julian Assange e della sua vicenda, a parte qualche trafiletto ovviamente sui media mainstream che non interessa a nessuno, che però si occupano di altre persone arrestate. Quindi vedete che c'è anche questo due pesi e due misure per quanto riguarda il trattare questi argomenti. Volevo Germana leggere una parte della introduzione al tuo libro in cui scrivi se cercate Wikileaks su internet la troverete descritta come un'organizzazione internazionale no profit che riceve anonimamente documenti coperti dal segreto di Stato e li carica sul proprio sito. In realtà Wikileaks è molto più di tutto questo, è una sorta di insurrezione mediatica, una reazione alla ormai narcotizzante omogeneità della stampa mainstream che da decenni ci impone una totale uniformità di vedute, un pensiero unico strumentale alla fabbrica del consenso, condizio sine qua non alle logiche del potere. Ecco, questa mi sembra una riflessione interessante che vorrei sviluppare con te e con Berenice, cioè la vicenda di Wikileaks va molto al di là di quelli che sono i dati fatti di cronaca, cioè è stata una vera e propria insurrezione mediatica quella che ha lanciato contro il potere Julian Assange. Assolutamente sì. È stato anche un lavoro di squadra, perché sicuramente l'anima di Wikileaks è Assange, però è stato un lavoro di squadra. Non dimentichiamo che dietro Wikileaks ci sono uomini e donne che lavorano incessantemente, che mettono a rischio la propria vita, che dedicano tutto il tempo che hanno proprio a questo. Quindi veramente dobbiamo essere riconoscenti comunque noi a queste persone, Julian Assange soprattutto. Lui ha, se vuoi, rotto il velo di menzogne che diffondevano, col quale le cancellerie occidentali avevano coperto tutte le loro azioni e cominciamo a partire dai crimini di guerra. Perché qui diventa curioso, perché Assange comincia a diffondere informazioni, che poi queste informazioni sono di fatto, attenzione, Assange non è un hacker. Lui riceve da hacker, per esempio Anonymous, sicuramente più famoso, oppure da whistleblowers, coraggiosissimi personaggi, tra i quali possiamo citare C.S.A. Manning, Dua Snowden, eccetera. Anche a loro dobbiamo essere assolutamente riconoscenti. Lui comincia a pubblicare questi documenti e metterli online e non succede niente fino al 2010. Perché? Perché lava i panni sporchi in casa altrui. Quando però comincia a pubblicare nel 2010 i diari di guerra afghani e a ruota i diari di guerra iracheni, ecco che allora diciamo che le cancellerie occidentali non amano più questo genere di informazioni che vengono divulgate. E qui parte, con un attentismo perfetto direi, parte un'accusa di stupro, un'accusa fondata sul nulla, che si sarebbe rivelata fondata sul nulla, tra parentesi due donne, che oltretutto una delle quali aveva ritrattato, poi è stata fuori che stupro non era, era un'accusa di sesso non protetto, vaga anche questa, dopodiché assolto, con formula piena, perché il fatto non costituisce reato, però intanto lui per sette anni si è portato dietro un'accusa di stupro, che è un'accusa assolutamente infamante e che gli ha precluso un sacco di aperture, non ha potuto pubblicare, non ha potuto muoversi come voleva e poi a un certo punto lui avrebbe voluto anche andare in Svezia per fronteggiare le accuse, però ovviamente aveva già capito di che cosa si trattava, ovviamente ha detto io vengo a condizione che non sia estradato negli Stati Uniti, questa garanzia non gli è stata data, Giuliano Assange non è più andato in Svezia, l'accusa di stupro è diventata un mandato di cattura internazionale, è stato costretto a rifugiarsi all'interno dell'ambasciata Equadorenio di Londra, però questa accusa di stupro che tutti sapevano essere falsa, perché veramente lo sapevano gli svedesi, lo sapevano tutti, l'importante e lo scopo di questa accusa era incastrarlo, inchiodarlo in Svezia inizialmente, che poi si è rivelato essere a Londra, per estradarlo negli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto rispondere di inizialmente solo un capo di accusa che poi comunque sarebbero stati aumentati e poi comunque erano diventati 17, tra i quali Espionage Act, che non chioda 175 anni di galera, quindi è vita. E poi, diciamoci una cosa molto chiara, qui abbiamo un giornalista australiano che non vive in America. Ma per quale motivo un giornalista australiano deve sottestare alle leggi americane? Qualcuno ce lo deve spiegare. Sì, chiaro, chiaro. Berenice, senti, ma quello che ha fatto Assange in realtà è quello che dovrebbe essere il giornalismo. Noi ne stiamo parlando come qualcosa di grandioso e di eccezionale, però dovrebbe essere in sostanza la regola. Eh sì, purtroppo però adesso le strategie politico-economiche dell'Occidente si basano su delle narrazioni che sono proprio costruite ad hoc, quasi con delle regie, a volte addirittura con degli scenari, anche come abbiamo visto, certe fake delle foto di bambini feriti, quindi si sono veramente allenati per una situazione di questo genere a cui la cosa peggiore è che ci siamo tutti abbastanza abituati, quindi è come una nuova normalità di dar completamente retta a queste narrazioni senza dubitare alcunché. Come dice Germana, Wikileaks è come una rivoluzione informatica, ma in realtà semplicemente nell'epoca in cui questo non succedeva più, lui faceva semplicemente uscire delle informazioni non filtrate su dei fatti, quindi non è che era lui che le cercava per pubblicarle, per dannoia qualcuno, semplicemente tutte queste cose non filtrate sono dannose per il sistema perché danno la possibilità a chiunque, non agli esperti di geopolitica, ma veramente a chiunque legge due righe, di poter giudicare ognuno col proprio giudizio cosa sta realmente accadendo, cioè cosa è dietro agli interventi, dove sono o non sono veramente le armi di distruzione di massa, se il Presidente ha gassato o meno i propri cittadini, insomma tutte queste narrazioni che vediamo nei telegiornali, se uno va a leggere, intanto nel libro di Germana Leoni è proprio elencato in modo molto preciso, ma non so ora Germana il numero preciso di quante informazioni Wikileaks ha fatto uscire e non c'è bisogno appunto di essere dei grandi esperti per andare a vedere, ma guarda in realtà in questo paese è successa questa cosa, ma sono state rivelate queste email personali, questi cablo dei diplomatici, capisci come mai è stata messa lì una certa persona, cioè è molto ovvio, ora la cosa ovviamente più grave è stata quando lui ha divulgato le email di Hillary Clinton che era stata costruita come l'eroina della sinistra occidentale e in realtà si è rivelata proprio anche da piccoli fatti, piccoli messi, ci si rende conto che è tutto un personaggio costruito e che lei è stata invece una parte di una terribile politica estera che gli Stati Uniti hanno portato avanti nelle ultime amministrazioni. Sì, chiaro, quello che stupisce di Assange è proprio questo infatti, cioè di essere trasversale in qualche modo alle logiche politiche perché non ha agito in favore di una parte o di un'altra di un partito politico, di un'ideologia o un'altra, solo in funzione della verità e poi naturalmente quello che ha fatto uscire qualcuno dice ha favorito indirettamente una parte o un'altra, però è chiaro, quelli sono i fatti e chiaramente se la Clinton dice certe cose opera un suicidio elettorale da sola, quindi non è certo colpa di Assange se poi la Clinton non è riuscita a vincere le elezioni del 2016 negli Stati Uniti. Quindi parliamo un attimo anche di questi personaggi che contribuiscono insieme ad Assange a far uscire queste informazioni perché, lo ripetiamo, il punto è che ci devono essere anche dei personaggi che dal sistema fanno uscire delle informazioni e le fanno arrivare a chi poi le può pubblicare, no? Germana? A chi? Ok, parli di Celsea Manning? Sì, per esempio, esatto, esatto. Ok, Celsea è praticamente una vicenda personale piuttosto travagliata, era subito un divorzio dei genitori, è stato prima andato con la madre, poi è tornato dal padre, torna dal padre nel momento in cui lui scopre comunque la sua omosessualità e il padre lo caccia di casa e cosa fa? A questo punto si arruola nell'esercito. E qui, inizialmente, Manning non aveva nessunissima intenzione di diventare un insulblower, ma le cose che aveva visto lo avevano sconvolto a tal punto che aveva cercato di confidarsi con Adrian Lamo, un altro militare che era in Iraq, perché poi è stato mandato in Iraq. E qui lui si apre e dice ma se tu vedessi delle cose terribili, se tu assistessi a cose indicibili, cosa faresti? La verità è che Adrian Lamo, un personaggio un po' borderline, lo denuncia e Celsea Manning finisce in galera. Però qui si rivela, questo personaggio, così all'apparenza fragile, così indifesa, così sola e invece tira fuori una forza d'animo incredibile. Tu pensa che non cede mai agli interrogatori, pensa che quando lei... La cosa curiosa, lei dopo un intervento di Edward Snowden che chiede al Presidente Obama di graziare Celsea, Obama ha la grazia, Celsea esce e aveva a questo punto già tentato di uccidere, aveva a suo carico già un tentativo di suicidio e a questo punto viene riconvocata perché per un interrogatorio durante il quale lei avrebbe dovuto denunciare Giuliana Sange. Piuttosto di denunciare Giuliana Sange, lei si fa riarrestare. Alla fine abbiamo tre tentativi di suicidio, ma Celsea dice io muoio piuttosto che tornare indietro e che tradire. Qui si rivela questi personaggi che sono così bistrattati, alla fine se la società si salverà è grazie a questi personaggi, è grazie a whistleblowers, perché parliamoci chiaro, il dovere di lealtà non può superare una determinata linea rossa. Io credo che... No, credo che... mi era stato detto che esiste anche all'interno dell'esercito un code of conduct in base al quale se l'ordine impartito è contrario alla tua morale e agli ideali stessi della divisa che tu porti, tu non solo hai il diritto, ma hai anche il dovere di opporti. Celsea ha fatto semplicemente questo, ha denunciato quello che avrebbero dovuto fare tutti e poi è quello che su un altro piano come agente dell'intelligence e Celsea come militare ha fatto Edward Snowden. Lei adesso è stata graziata perché, ripeto, dopo tre tentativi di suicidio è intervenuto un giudice e adesso ha detto basta. C'è anche da dire che gli interventi di magistrati, di personaggi di ogni sospetto che sono intervenuti per aiutarla, per difenderla, che hanno preso le sue difese sono talmente tanti che alla fine è stata praticamente graziata, è uscita e adesso è una libera cittadina ed è stata insignita del premio Sam Adams. E lasciami dire una cosa su questo premio Sam Adams. È un premio all'integrità che viene riconosciuto soprattutto a whistleblowers. Consiste, pensa, in un candelabro e una candela. 20 dollari è il valore di questo premio, però questa candela rappresenta la fiamma della luce in un mondo diventato veramente buio. Ecco, adesso ci fermiamo soltanto un attimo per una breve pausa e poi torniamo subito dopo ancora a parlare di Giuliana Assange. Tra poco. TG Bio Blue 24 Recap le notizie più importanti della settimana. Sabato alle 20 e alle 22 e domenica alle 14 su Davvero TV la TV dei cittadini. Eccoci ritornati in studio con Germana Leoni e Berenice Galli. Berenice, io volevo chiederti proprio questo. Questi personaggi appunto aiutano a far uscire fuori la verità. Forse sono troppo pochi in realtà perché poi dovrebbero esserne anche di più. Però c'è chi sostiene ovviamente che c'è una sorta di ragione di Stato che quello che ha fatto Assange, quello che hanno fatto per esempio Snowden e la Manning sono atti che metterebbero in pericolo una nazione e quindi anche ovviamente gli abitanti di quella nazione e le persone di quella nazione perché potrebbero scatenare anche delle guerre. Come possiamo rispondere a questo tipo di argomentazioni? Dunque intanto non è la prima volta che delle informazioni soprattutto su alcune guerre arrivano da degli informatori. Quello che invece è successo dall'11 settembre in poi è che questo Espionage Act che come ricorda anche Germana è un atto scritto in epoca di guerra durante la Prima Guerra Mondiale quindi se a un giornalista negli anni 2000 devi imputare dei capi d'accusa sotto l'Espionage Act allora chiariamoci che stiamo vivendo una guerra in modo esplicito e allora se ne può parlare. Poi come dice Germana si parla di un cittadino australiano quindi non dovrebbe nemmeno ricadere nella legislazione americana statunitense e quindi il fatto poi è un altro che la disinformazione ovviamente è voluta ma Wikileaks è dal 2006 che pubblica qualunque informazione su richiesta dei maggiori giornali occidentali questo non si dice abbastanza perché era un lavoro che lui faceva in accordo con appunto i giornali più importanti l'Espresso The Spiegel New York Times eccetera quindi non era una cosa non voluta ma come appunto anche nel libro di Germana a un certo punto il problema è stato quando ha toccato certi affari che non doveva toccare quindi che ci siano dei giornalisti che a questo punto giustificano il segreto di Stato è grave perché non è il lavoro che deve fare un giornalista di dire sì è bene non rivelare alcune cose cioè dovrebbe cambiare mestiere a questo punto quindi quella è la cosa veramente più grave come dicevo prima il fatto di accettare come cittadini come democrazie come governi come politici che che vada così e che poi non lo decidiamo noi veramente cioè il processo a Julian Assange è veramente un processo a ai nostri sistemi giudiziari all'autonomia dei nostri paesi e ora appunto è sempre più chiaro che il processo è stato un processo politico che è una persecuzione politica abbiamo già parlato anche con voi su Bio Blu che per fortuna coprite questo argomento poi ci sono in Italia sono solo altri dell'informazione diciamo alternativa la casa del sole presenza ci sono veramente altre cose ma sul mainstream come dicevi tu non è uscito assolutamente niente ma qui abbiamo a che fare con una cosa più grande di un'informazione non rivelata si tratta proprio della insomma della libertà di opinione della libertà di autonomia di stati sovrani sia di quelli che vengono bombardati ma sia di quelli nostri sotto i nostri piedi in Europa che non hanno modo di prendere una posizione che hanno paura a prendere una posizione questa è la cosa più grave si ricordiamo anche che questi documenti che Wikileaks ha pubblicato riguardavano anche l'Italia riguardavano per esempio l'allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi ed altri quindi sono interessanti anche per il nostro paese leggendo ancora nella introduzione germana ecco niente come sembra questo è un titolo molto come dire emblematico perché aiuta il lettore e non solo il lettore a chi si avvicina alle vicende di Giuliana Assange e poi ancora in maniera più allargata all'informazione in generale che bisogna sempre partire da questa frase cioè niente come sembra perché è vero che non bisogna essere complottisti in maniera esagerata e vedere complotti ovunque però nemmeno ci si può bere tutto quello che i media mainstream ci propinano perché solo perché appunto l'ha detto la televisione una volta si diceva così no? quello che dice la televisione è vero ecco appunto no in effetti no niente come sembra perché cioè il questo niente come sembra se racconto un piccolo episodio è la frase io ero in Cambogia all'inizio degli anni 90 ed era una guerra civile piuttosto cruenta ma soprattutto molto difficile da decodificare e una sera c'era il coprifuoco per cui eravamo tutti costretti a stare all'interno di un albergo dell'unico albergo che poi c'era appena all'epoca e io ero quasi disperata veramente confusissima chiedo a un personaggio che più o meno sapevo che era un insider e mi chiedo mi dai una mano orientarmi in tutto questo marasma e lui mi ha detto ricordati una cosa sola niente è come sembra e da quel momento in poi diciamo che è stata la frase che mi ha guidato in tutte quelle che poi sono state le mie ricerche e niente è come sembra ed è quello che Julian Assange sta facendo notare perché lui il suo grande veramente i suoi grandi meriti sono tanti ma lui ha letteralmente sbugiardato le cancellerie occidentali noi siamo in una società oramai distopica di tipo orwelliano in cui l'aggressione militare diventa una missione umanitaria e come diceva Orwell la pace è guerra la libertà è schiavitù e l'ignoranza è forza però attenzione in questo caso la nostra ignoranza è la loro forza cioè Julian Assange ha sollevato questo velo ha ha fatto vedere quello che c'è veramente dietro le quinte che non è assolutamente quello che appare Ecco ma Germana ma che cosa chi c'è dietro le quinte perché è chiaro che quello che viene svelato qui è che spesso i politici non sono che delle pedine di un gioco molto più grande ma chi c'è dietro queste persone dietro i governi dietro i servizi segreti Beh sì ci sono anche i servizi segreti però io non ecco molto spesso si tende ad accusare i servizi segreti un po' di tutto quello che succede qui più che altro questa è una questione di geopolitica dietro questi personaggi ci sono gli interessi di grandi lobby quali che ne so il complesso militare industriale big pharma big tech sono tutti questi poteri occulti beh a questo punto potremmo è un governo nascosto è lo stato profondo se vuoi sono gli interessi di tutte queste cooperazioni che di fatto portano avanti gli interessi non del paese ma i loro interessi privati attraverso i personaggi spesso burocrati che si nascondono dietro le amministrazioni perché se tu hai notato una cosa qui abbiamo tu puoi cambiare le presidenze finché vuoi ma la linea della politica estera non cambia mai ed è la politica estera quella che se vuoi è importante per gli assetti geopolitici del pianeta e guarda che i file di Julian Assange se tu li esamini sono una finestra aperta sul grande gioco il grande gioco per un controllo unipolare del pianeta e soprattutto delle sue risorse energetiche perché se tu vai a ben guardare le grandi guerre dove nascono nascono dove ci sono risorse energetiche giacimenti di petrolio i giacimenti corrispondono i corridoi energetici corrispondono ai punti di scontro dove ci sono scoppiati i più grandi scontri di questi ultimi decenni ecco Berenice quello che ha fatto Assange che appunto dovrebbe interessare tutti quanti è anche aver scoperchiato il fatto che non si vive in effetti in una democrazia cioè noi andiamo a votare votiamo una parte o l'altra poi veniamo a sapere da questi documenti che in effetti queste persone si comportano esattamente all'opposto di quello che hanno promesso all'elettorato quindi c'è anche una consapevolezza di questo genere ha contribuito Assange con il suo lavoro e operato a far capire alla gente che in effetti la democrazia è stata completamente svuotata di senso sì io penso che si dà veramente ancora troppa importanza alla persona al presidente eletto del momento come se cambiasse veramente qualcosa anche lì è una cosa costruita sull'immagine che Trump è brutto antipatico spettinato l'altro è a modino e quindi in realtà queste cose che Germana giustamente chiama lo stato profondo ma sono delle strategie di geopolitica internazionale che se uno va un attimino a riguardarsele anche solo negli ultimi 30 anni sono cose chiare quindi cosa deve fare il governo degli Stati Uniti che poi può cambiare un po' se c'è Trump o se c'è un democratico ma sono un po' le stesse cose è la destabilizzazione del Medio Oriente c'è ora l'obiettivo strategico principale l'Indo-Pacifico l'Africa l'Africa non se ne parla è un terreno completamente suddiviso tra le forze che si mostrano i muscoli continuamente noi qui si parla solo di Covid ma queste guerre questi scontri ci sono continuamente ieri un aereo spia statunitense sorvolava i confini del Venezuela appena arrivato Biden sono ripartite determinate cose che però stanno avvenendo da tempo quindi la destabilizzazione di tutti questi paesi sovrani non allineati è una strategia chiara se uno poi la segue ma la deve collegare quindi non è che sono cose così nascoste cioè questo stato profondo non è che c'è qualcuno nascosto in un bunker che decide le cose e Trump e Biden poi le eseguono è chiara diciamo la politica mondiale che sta avvenendo ovviamente uno poi la canalizza dal 1989 in poi la guerra fredda doveva essere finita in questo momento ci siamo nel mezzo anzi siamo a un livello dello scontro che è quasi più rischioso di quella che vivevamo durante la guerra fredda quindi se uno non segue anche tutte queste altre cose poi ha difficoltà a capire e dice ma perché Trump ha detto quello fa quell'altro cioè ci possono essere delle differenze sulle politiche interne degli Stati Uniti se cambia un presidente ma su queste poi appunto Germana mi può correggere però sulla sulla strategia mondiale della geopolitica internazionale cambiano delle sfumature ma quello che loro vogliono fare rimane quello destabilizzare i paesi perché non esistano altri partner troppo potenti che possano dargli fastidio sì è chiaro e bisogna imparare a collegare i punti e poi è fondamentale un altro aspetto cercare come spettatori come cittadini di capire che spesso questi poteri comprano il mondo del giornalismo e per cui quando sentiamo alcuni giornalisti piuttosto che altri dobbiamo capire da dove arriva lo stipendio che prendono diciamolo in maniera molto brutale è così perché altrimenti non si capisce perché uno sponsorizza una parte l'altro sponsorizza un'altra anziché sponsorizzare la verità come ha provato a fare Assange io vi faccio un'ultima domanda a tutte e due che è un po' anche una provocazione ma un Assange italiano ci potrà mai essere? Oddio credo che è auspicabile ma mi viene in mente Daniel Ellsberg con i Pentagon Papers quando dice ho dovuto aspettare 40 anni per vedere un Edward Snowden o un Julian Assange o una Chelsea Manning ora speriamo di non dover aspettare 40 anni anche noi insomma anche perché se Daniel Ellsberg aveva tempo noi tempo non ne abbiamo più la democrazia ha subito una tale involuzione parliamoci chiaro Julian Assange da libero cittadino era un pericolo ma secondo me è un pericolo anche adesso perché un Julian Assange rinchiuso in un carcere di massima sicurezza un uomo sul quale non pende nessun capo di imputazione è di fatto la testimonianza che a questa nostra cosiddetta democrazia parole come libertà giustizia non contano assolutamente più niente e guarda che io credo che ripeto non abbiamo molto tempo ma il termine la parola Julian Assange finirà con l'essere l'epitaffio scolpito sulla lapide delle fu democrazia occidentali Berenice invece tu la tua opinion sei pessimista o ottimista su un Assange eventuale italiano? Allora io intanto mi auguro che un Assange sarà lui medesimo cioè che questa detenzione orribile finisca e che lui possa continuare a fare il suo lavoro quindi ci va bene anche un Assange australiano e sulla situazione dell'Italia non saprei cosa dire ma mi piacerebbe chiudere con questa cosa perché tra qualche giorno ricorre un anno dalla scomparsa di Giulietto Chiesa io ho iniziato appunto collaborando con lui con Maglio Di Nucci con il comitato No Guerra Nonato di cui facciamo parte e quindi tengo a ricordare che le ultime parole di Giulietto Chiesa sono state per Assange e in particolare lui ha detto come Giuliano Assange è un simbolo è una bandiera e che ci può servire come un invito alla riscossa al risveglio prima che sia troppo tardi anche per noi e dovremmo capire che è indispensabile unire le forze che abbiamo che hanno un difetto fondamentale quello di essere frazionate divise incapaci di parlare con una voce unica e io ritengo diceva Giulietto che occorra creare o cominciare a creare una risposta coordinata un megafono alternativo uno strumento che sia capace di parlare ai milioni di spettatori ma soprattutto ai cittadini che vogliono sapere bene e allora io ricordo Giulia Nassange niente e come sembra Nexus Edizioni di Germana Leoni eccolo qua vedete la copertina lo ricordo c'è anche una prefazione di Maglio Dinucci che salutiamo io ringrazio Germana Leoni per essere stata con noi grazie grazie a te Edoardo e Berenice Galli grazie grazie a voi io vi ricordo che queste interviste sono possibili grazie al vostro sostegno ovvero con le donazioni oppure con l'acquisto di un piano appunto di sostegno per continuare a mantenere l'informazione libera e indipendente se non altro anche per continuare a parlare di Assange quando non lo fa praticamente quasi più nessuno io vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento alla prossima grazie a tutti grazie a tutti